Buonasera a tutti, grazie per esservi fermati fino a quest'ora. Ammiriamo davvero la vostra pazienza, cercheremo di essere anche abbastanza leggeri, così come richiede il fine giornata, però abbiamo bisogno di comunicare con voi e anche un po' parlare tra queste persone che sono qui di quello che stiamo cercando di realizzare. Il progetto Viride nasce, ricordo benissimo qual è stata la scintilla, era un focus group nel quale con Pietro Marcolini, con Fabio Renzi, con i colleghi che sono qui al tavolo e con altri abbiamo cominciato a ragionare sul senso che ha per il terzo settore in particolare, ma forse anche per gli altri settori, i ristori. Sentivamo parlare in quel periodo tantissimo di ristori a pioggia, di finanziamenti, di risorse destinate alla sopravvivenza delle nostre organizzazioni, pensammo però in questo focus group in quel momento che forse il ristoro poteva essere utilizzato, convertito e messo a terra con un po' più di senso, pensando anche al futuro. E quando abbiamo guardato il futuro ci abbiamo visto quello di cui oggi si discute tantissimo, che sono i fondi del PNR, che sono il fondo complementare e tutte le risorse che abbiamo, compresa anche tutta quella che è la progettazione europea che sarà possibile da qui al 2027. E la domanda che ci siamo fatti e la cosa su cui ci siamo interrogati è come prepariamo il nostro mondo, il mondo del terzo settore, a essere capace di intercettare quelle risorse e di fare dei progetti che servano davvero per chi lavora nel cratere ovviamente per la ricostruzione sociale ma per chi lavora in tutto il resto della regione per quello che sono le attività che deve fare che sono diverse da quelle che si facevano prima del covid. Io sono un attento conoscitore di tutto quello che succede in particolare per il volontariato e per la promozione sociale e posso affermare con chiarezza che il mondo che avevamo prima del covid è tanto diverso da quello che abbiamo oggi. Vedo organizzazioni riconvertire la loro attività, altri provare a tenere un po' di più la linea però nel complesso tantissima voglia in più di fare rete e dinamiche abbastanza diverse per cui quello che cercamo di immaginare in quel focus group di cui avevo parlato è un po' quello che oggi cerchiamo di mettere a terra non senza qualche difficoltà ma è l'idea che avendo visione sia possibile e sia più efficace dare ristoro alle organizzazioni. Provare a costruire il futuro insieme forse ha più senso che dare delle risorse soltanto per la sopravvivenza.